Ciao Jack Ciao a te, è arrivato ieri notte, è stravolto, perché poi sei uno di quelli che ancora la mattina va a lavorare, no? Purtroppo sì, purtroppo sì, vado a lavorare quindi Tu ti dico, siamo professionisti, siamo professionisti, invece lui ha vinto il Poker Grand Prix, ma non una tappa ha vinto proprio la prima edizione del Poker Grand Prix, ma va però ancora al lavoro Sì, sì, vabbè, non siamo diventati miliardari ancora da poter lasciare il lavoro, però... Aiuta? Oh, aiuta, sì sì E oggi come va? Ma abbiamo iniziato da un paio d'ore, sono ancora lì in average, quindi... Dai un consiglio, come si fa? Si gioca chiuso all'inizio? Voi giocate chiusi, io gioco a modo mio E mica vi svegli i suoi segreti Non mi rimane altro che augurarti in bocca al luogo e conto di fare un'altra telecronica di un altro tuo tavolo finale Speriamo magari che sia di buon auspicio